andiamo ora a vedere marcella che fa il bagno arancione marcella com'è l'acqua ma si può fare il bagno si si immerga per piacere prego si immerga al 3 dovrebbe immergersi non al 7 l'8 il 9 via dai su marcella ha fatto il bagno con un grido ora vediamo la spiaggia il posto dove siamo tutto bene prendiamo ancora la marcella ecco la marcella che sta godendo